Salve sono Cristiano Vignali e siamo in località Teate Center con Gianfilippo Monti e Gianmarco Toracchio per il Cenzorino Teatino stiamo facendo un warm up c'è un sopralluogo per la città alla ricerca ecco adesso qui c'è anche una ruspa alla ricerca di persone che hanno avuto dei problemi e disagi per la neve al fine di prestare soccorso con le nostre pare Nel contempo abbiamo lasciato in centro città una squadra di giovani operai, nostri collaboratori volontari che stanno aiutando i negoziati a sparare le vetrine Adesso facciamo vedere un po' la strada Questa è via Brigata Maiella Stiamo andando verso Madonna della Vittoria Da lì risaliremo all'incrocio della Madonna degli Angeli Per controllare la situazione ci sono circa 20-30 cm di neve la strada però è abbastanza pulita Diciamo che questa volta il piano traffico il piano neve per il traffico sta andando abbastanza bene Quindi se non ci saranno dei peggioramenti dovuti alle condizioni climatiche sicuramente si potrà dire che l'amministrazione di Primio ha fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda il piano traffico Poiché il piano traffico neve in quanto bene o male la strada è pulita quindi tranne clamorosi sviluppi così sarà Ringraziamo anche Luigi Buracchio e gli altri ragazzi che stanno sparando incessantemente la neve nel centro cittadino Da Cristiano Vignale è tutto con Gianfilippo Monti alla ripresa e Gianmarco Toracchio dietro nella macchina i baldi giovani spalatori che intervengono in caso di soccorso